SERPENTE! BOOM! WOW! Ragazzi qui il serpente bella faccia che vi parla Avete lasciato quel mio piace che vi dicevo Altrimenti stanotte vi vengo a mangiare Se qua si può giocare a calcio animali Calcio animali! Ti riporta! Let's go Goal! Vai 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 Niam 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 Si! Hai raccolto uno scorpion chest Non penso che questo animale faccia questo verso ma mi piace pensare che lo faccia Ciao a tutti i roblox socotari Qui è bella pazza e benvenuti su roblox Niam 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 avete da mangiare perché ho fame Ragazzi siccome l'episodio dove un livello uguale un animale vi è piaciuto tantissimo Eccosi qua con il secondo episodio Allora eravamo partiti da un verme come vi ricordavate spero formica larva Fino ad arrivare al capibara Perché io sono un capibara molto brutto in questo momento Quindi mi raccomando Spaccate il tasto dei mi piace Altrimenti il capibara bella pazza si arrabbierà tantissimo Quindi un livello equivale ragazzi a un nuovo animale Mmh mangiamo Mmh mangiamo Mamma mia com'è bello mangiare i funghi Ma i capibara mangiano i funghi raga Dobbiamo Oh è un fungo super raro questo eh 12 xp Allora oh il riccio No è mio questo riccio maledetto Mi sta già fregando da mangiare raga assurdo E i ricci fanno male pure Il nido Nido di rondine Mmh buonissimo fame Allora vediamo Ma c'è qualcosina da scioppare Dei costi Eccoci qua Danno per 2.400 Ma sei fuori di testa Ma tutti sti soldi Ma divento povero io qua eh Ok ho cambiato idea Restiamo capibara per ora eh Nella savanna Andiamo nella savanna 15k di exp Noi ne abbiamo a malapena 2 e mezzo raga Doppio xp Eh doppio xp Eh ciao Oh mio dio Cinghiale piccolo raga Mi sa che si tritura Ah raga si tritura È potentissimo Aiuto il capibara Non è abbastanza forte contro questo coso Meglio mangiare i funghi I funghi Oppure è meglio tornare ad essere un verme raga Mamma mia Voglio essere un verme Bel verme ecco Fantastico Tornerò ad essere verme E mi rintanerò qua No non posso farlo Devo spaccare tutto Forza capibara Io credo in te Io credo in te Continuiamo a mangiare i funghi E diventeremo sempre più grandi Posso mangiare gli altri capibara? No purtroppo non posso Raga a breve saliamo di livello A breve saliamo di livello Chissà quale sarà il prossimo animale Continuiamo a mangiare i ricci Buoni ricci Buoni I ricci di mare però mi andrebbero di più eh Buonissimo anche questo Ok il nido raga 2.7 Siamo ancora a 2.7 2.9 Attenzione dopo questo riccio potrebbe esserci L'esplosione Forza un altro Dai oh Vai Quindi Oh E quindi Perché non sono Non mi sono trasformato Serpente Boom Wow Ragazzi Che il serpente bella faccia che vi parla Avete lasciato quel mio piace che vi dicevo Altrimenti Stanotte vi vengo a mangiare Raga Sono un serpente bellissimo Top Chissà i prossimi quali saranno Guardate di shotto Ai poveri ricci C'è un colpo solo raga Ma tanta roba Ma perché sono livello 1? Eh ma qui bisogna shoppare tutto Cioè ragazzi comunque La natura è veramente Tosta eh Se sopravvivere in natura Solo i migliori sopravvivono Allora missione Eh richiesta Posso fare sconfiggi 20 piccoli cinghiali No direi che non ce la faccio ancora Non ho le mele Non ho niente Recupera HP Ma io non ho niente Allora vediamo Mangusta raga Posso già diventare una mangusta Sì che è più forte Cioè questa è più forte del serpente Mi vuoi dire eh Cioè ma è minuscola Cioè come fa una mangusta ad essere più forte che un serpente Ma è una presa in giro questa eh Allora quasi secondo me potrei già salire di livello a breve eh 4 e 80 Quindi a breve Chissà se fra poco riuscirò a mangiare quei cinghiali raga eh Ok top Oh il drago di komodo raga Ma questo è una bestia Ma non è così piccolo Ma questo è un cucciolo di drago di komodo Proviamo ad andare dai cinghiali Cinghialini belli Da dietro Niam 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 Piccolo cinghiale sei mio Mhhmm non è buono questo cinghiale Allora mi fanno male perché guardate Quella rossa è la mia vita Però raga, mamma mia, li sto picchiando tantissimo Buonissimo, questa carne di cinghiale, questa selvaggina Vediamo, allora, drago di komodo, 8 e 5, quindi ancora un pochettino, eh Sì, ma la missione, quanti cinghialoni dovevo fare? Quanti cinghiali dovevo fare? 4 su 20, sì, vabbè, ciao Completa 50 missioni per ottenere DRAGONO LUNARE DRAGONO LUNARE, l'italiano, come sempre, ROBLOX GG, eh Altri cinghiali da maniere, sì Devo diventare fortissimo Raga, devo mangiare 20 di sti cosi Sì, a breve andiamo nella savana, raga Però manca ancora tanto Dopo voglio diventare un leone oppure una iena, eh Vieni qui, cinghialino, a quanto sto? Cavolo, raga, sto per morire? Mamma mia, pochissima vita, eh Piccolo cinghiale, ma è enorme sto cinghiale Che piccolo, mamma mia, stava per uccidermi, raga A quanto sto? 12 su 20 È meglio mangiare un altro po' di uova Così almeno la mia salute torna integra, eh Cioè, ma ci vuole tantissimo a salire di livello adesso Ci vuole veramente tanto Mancano tre cinghiali, forza del rago di Komodo Eh, cucciolo di del rago di Komodo Cioè, un coso, un lucertolino così piccolo Che riesce a sconfiggere un coso così grande Vabbè, ROBLOX, tutto ok Raga, è l'ultimo È l'ultimo cinghiale questo Boom, missione Richiesta, 400 exp Boom Ma, ma non è nulla C'è tutta sta fatica Per cosa? Per niente Posso trasformarmi In un maiale Ma mi vuoi dire che il maiale è più forte del drago di Komodo? Cioè, questa cosa non è Assolutamente Il maiale uccide il cinghiale Cioè, questo gioco è completamente fuori di testa Attacco maialesco dall'alto Ok, so fare bene il maiale Raga, il cobra Raga Il cobra Ma certo un po' più grande Cioè, il serpente di prima era enorme Il cobra Mamma mia, quanto cava, raga Tantissimo Allora, devo fare altri 11 nidi Forza, mangiamo questi nidi Al cobra piacciono tanto questi nidi Oh, lascia il mio nido Hai capito? Maledetto riccio Quello è un riccio, raga Tutti i ricci sono qui Io sono il più forte Ok, raga, l'ultimo nido Boom Missione completata 400 di exp Possiamo trasformarci? No, 1700 ancora A breve, a breve Sì, ma possiamo andare nella savana, raga Top Finalmente Andiamo via da sto posto E benvenuto nella savana Attenzione la mangusta Mamma mia È tosta, è tosta, raga È tosta sta mangusta, eh L'ho mangiata, sì Trasformazione in cervo Passiamo da cobra a cervo Qualcosa non torna Ma che faccia strana che ho, eh Ok, cervo contro mangusta Mamma mia Il cervo, raga Troppo forte Una mela Niam Ok, raccolto una mela Top Vieni qui, mangusta bella Mamma mia Due colpi e vi magno Posso già upgradearmi? No, a 21.000 Ma anche il cactus Ma no Anche il cactus posso mangiare, raga Ma no Ma povero cactus Mamma mia Qua che è? Piccola radice secca What? Ma che cosa? Come faccio a colpirla? No, al cervo non piace questa cosa Da mangiare, eh Quindi magari prendiamo Il cactus piace molto al cervo Raga, un leone Raga, c'è un leone 5k No, acava tantissimi No No, sono morto Ma non è giusto No Certo che è un leone contro il cervo Dovevo aspettarmelo, eh C'è il boss giornaliero Ma che cosa? Raga, c'è qualcosa là Ma cos'è una formica? Raga, cos'è un grancho? È una formica, raga Sì Vabbè Ciao Gnale Ah, ma mi ha sciottato Vabbè, dai Io continuo, raga Calcio addirittura Se qua si può giocare a calcio animali Calcio animali Vai Tira in porta Tira in porta Mamma mia che pieda banana Dai, tira in porta Tira in porta Let's go Goal Vabbè, andiamo ad evolverci Che è meglio, eh Oh mio Dio Ma questo, raga È un tirannosauro Devo assolutamente arrivare come lui, eh C'è bellissimo Andiamo nel mondo, forza Io sono solo un povero cerviatto Ti nascondevi, eh, piccola mela Potenziamento del server Vai, potenziami Potenziami Dov'è il potenziamento? Ma cos'è? È una presa in giro questa? Non c'è nulla E continuerò a mangiare i cactus Allora Lì c'è il leone Direi di stargli molto alla larga, raga, eh Ok, possiamo Vediamo un po' Diventare qualcos'altro Ancora no, raga Se ho sbloccato solo 18 animali su 74 Vieni qui, mangusta bella Ti disintegro Sì Una volpe Che abbiamo sbloccato, raga La volpe Bellissima questa volpe, raga Manza le radici La volpe manza le radici secche Ok, non chiedetemi perché Ma gli piacciono molto Vieni qui, mangusta La volpe, raga È potentissima La giungla, raga 60k Cioè, mi manca tantissimo la giungla Oh mio Dio Ma la giungla Ci sono i bambuini laggiù No, 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 no Allora Il leone 5k Direi che Ancora sono molto scarso, eh È meglio continuare a mangiare la verdura Ok, una mela Ariadino 200k Sì, vabbè I dinosauri, raga Guardate là Ho visto un mammut Mamma mia Mi sa che quasi staremo per un po', eh A mangiare le radici Leone, posso mangiare sto uovo? Grazie mille Vediamo Uh, manguste Manguste fresche Tutte per me Manguste fresche Wow Un cinghiale, raga No Sono diventato un cinghiale Ah, cibo fresco Magali Sono Sandy Sandy, fatti mangiare Fatti mangiare, Sandy Ho fame Ho fame C'è un boss C'è un boss dall'altra parte Ciao Dove? Dove un boss? Ma io voglio mangiare te Uffa Allora, le manguste Ancora non le sciotto Assurdo Scusa, ma il leone ancora no? Ancora Oh Sì, un cinghiale Ha distrutto un leone Assurdo Che è sta roba? Oh, arriva il T-Rex, raga Meglio andare via Leone è bello No, raga Fa troppo male Fa troppo male Ai, 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 ai Fa malissimo Fa malissimo Mangiamo queste grandi radici secche Va che meglio, eh Per rifarci un po' di vita Mamma mia È troppo potente il leone, raga Non è giusto Oh Oh mio Dio, una giraffa No, T-Rex, non farmi male Raga, una giraffa Bellissima Sono una Potresti lasciarmi ste cose Mamma mia che ingordo che sei Mamma Vediamo se il leone riesco a mangiarlo Mamma mia la ziraffa che batte il leone Non ho mai visto sta cosa Ma sto T-Rex mi lascia in pace Ma vai a mangiare da un'altra parte Ma se vado qua dentro Non ci sono le sabbie mobili Ma sto T-Rex raga non mi lascia Mi lasci in pace Ma cosa vuoi dalla mia vita da ziraffa Vai 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 che battiamo il leone Vai Raga a breve nuovo animale Nuovo animale Grande raga il leopardo Bellissimo Sì ma il leopardo adesso contro il leone Gnam Gnam Che bontà Raga il capo scorpione Mamma mia mamma mia raga No mi fa male mi fa male mi fa male Un po' di cactus un po' di cactus Aiuto Aiuto fa malissimo raga No lo devo sconfiggere Una mela Vai che ho fatto la missione Missione vai Richiesta Dai 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 forza 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 Che devo sconfiggere il boss Oh quel tirannosauro quando serve non c'è Ti prego Fa che non ha recuperato Sì non ha recuperato la vita top Vai 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 Gnam 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 Sì Hai raccolto uno scorpion chest Dove 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 scorpion chest Eccola qua Usa l'oggetto Vediamo un pochettino Armatura dello scorpione Assurdo posso mettere un'armatura Vai usiamola Non riciclo Ma cosa no Voglio usarla Adesso raga ho l'armatura dello scorpione Top Wow Raga una tigre Una tigre cicciotta sono diventato Mangia cibo E certo che magno Gnam Tre colpi per il leone Ti divoro E adesso Chi è il predatore Qui eh Chi è il predatore Chi è il predatore Sono quasi a 60k per andare nella giungla raga Non vedo l'ora E anche la missione dei cactus è finita Mille exp Raga breve A breve upgrade Cosa diventiamo Cosa diventiamo Cosa diventiamo Un coccodrillo Ci sono due coccodrilli e una Bella faccia Mi maggio sto leone Con due bei morsi Gnam 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 Allora 60 raga possiamo andare finalmente Dove 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 Ariadino purtroppo no Sì ma vado pianissimo comunque Andiamo nella giungla Gnam mangusta mamma mia Finalmente un coccodrillo come me può andare nella giungla raga Mamma mia i babbuini guardate che roba I babbuini Ma questo non è un babbuino è un gorilla 8k Gnam 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 1.5k tantissimo Oh mio dio le banane giganti Che è sta roba Migliora la tua rarità Raga Il boss scrofa Il boss cinghiale guardia Gnam Gnam Cinghiale guardia Gnam 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 Vediamo qua che è un tempio Si entra Dove si va qua Ma che è una porta di una casa Mamma mia ma ci sono solo Anguria Gorilla e coccodrilli Cavolo cavolo No 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 picchia 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 Ok Anguria E anguria ancora Anguria Forza Gorilla maledetto Dammi l'esperienza Che ho fame Mmm buonissimo Allora Vediamo Chi indovina che cosa c'è dopo il coccodrillo vince un biscotto Quindi vediamo eh Vediamo un pochettino perché a 75 c'è l'upgrade raga Ghiaccio Rarità epica What Cosa c'è là Si può entrare Allora a breve c'è l'upgrade del coccodrillo A breve c'è l'upgrade Preparatevi Forse altri morsetti Che è qualcosa Oh Un leone Un leone raga Oh mio dio un giocatore È un dinosauro Ma fa paurissima Adesso sono un leone fantastico Ghiaccio Rarità epica E quindi E quindi qua Non si può entrare Raga Purtroppo Allora io direi di fare una cosa Che se volete un secondo episodio Io mi tirerò una bella scioppata Perché da me è tutto Roar Ciao 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 Grazie a tutti